Ancora una tragedia che ci colpisce duro in Afghanistan. Alle 6.20, ora italiana di oggi, ad Adraskan, un carabiniere morto e altri due commilitoni sono rimasti feriti in seguito ad un attentato avvenuto in un campo addestrativo della polizia afghana. Nell'attentato ha perso la vita il carabiniere scelto Manuele Brai, trentenne di Galatina, effettivo al XIII reggimento Friuli Venezia Giulia. Lascia la moglie, 28enne, e il figlio di otto mesi. Brai era la sua quinta missione all'estero. Era in Afghanistan dal 7 maggio scorso. In precedenza il militare salentino era stato in Albania, due volte in Bosnia e una volta in Iraq. I genitori di Brai, padre operaio in un caseificio del paese, madre casalinga, i familiari della moglie del militare morto risiedono a Collepasso, un piccolo centro di 6.000 abitanti a 30 km da Lecce. L'esplosione ha coinvolto quattro militari dell'arma appartenenti al PSTT, uno speciale nucleo addestrativo della polizia afghana. In seguito all'esplosione, avvenuta in prossimità di una garitta di osservazione installata a ridosso della linea del poligono di tiro, altri due militari sono rimasti feriti alle gambe e sono stati entrambi ricoverati all'ospedale da campo americano. Sono il maresciallo capo Dario Cristinelli, 37 anni, di Lovere, Bergamo, e il carabiniere scelto Emiliano Asta, 29 anni, di Alcamo, di Trapani, effettivi alla seconda brigata mobile di Livorno e al settimo reggimento Trentino Alto Adige. Le lesioni e le gambe riportate dai due militari dell'arma sono gravi, anche se viene ribadito che non sono in pericolo di vita. Intanto è giallo sulla dinamica dei fatti. Secondo una corrispondenza da Erat City, l'agenzia API, l'Afghan Islamic Press, sostiene di aver appreso da un agente di polizia afgano del centro che un suo collega avrebbe sparato sul team di addestratori italiani, causando un morto e due feriti. La stessa AIP ha comunque consultato il responsabile del centro di addestramento, Falslamad Khalili, il quale ha invece detto che un italiano è morto e due altri sono rimasti feriti da un'esplosione seguita da una sparatoria, senza entrare in particolari della vicenda. Un'ulteriore versione parla invece di un proiettile proveniente dall'esterno, probabilmente un razzo.